Salerno per caricarsi e rifinire la preparazione perché le Paralimpiadi di Rio de Janeiro sono un sogno che potrebbe realizzarsi. Le credenziali ci sono tutte, minimo nei 400 metri, doppio bronzo agli ultimi europei di grosseto nel giro di pista e nella 4% il 27enne Emanuele Di Marino vuole esserci in Brasile a tutti i costi, tra due settimane le convocazioni. Nel frattempo è tornato a Salerno per alcuni giorni, si sta allenando sulla pista, ma ridotta per la verità, del glorioso vestuto in piazza Casalbo sotto il vigile sguardo del papà Raffaele e del fratello preparatore Stefano. Insieme a loro c'è pure la verocista Ariola Dedai, origini albanesi ma già da qualche anno italiana e nazionale azzurra. Lei è affetta da cecità che non le impedisce di correre e saltare perché l'atletica, lo sport è tutto, proprio come Di Marino, nato con il piede torto e che gareggia nella categoria T44. Le medaglie europee sono state importanti, sono molto contento di aver vinto la mia prima medaglia proprio in Italia a Grosseto, è stata un'esperienza davvero bellissima. Adesso abbiamo un'altra gara a Berlino fra una decina di giorni e poi aspetteremo le convocazioni dalla federazione incrociando sempre le dita ovviamente. Il minimo è stato ottenuto, le medaglie sono arrivate, insomma le premesse ci sono tutte. Sì, sì, sicuramente è stato importante ribadire il minimo a Grosseto, a Berlino rifarò i 400, dato che quest'anno comunque ho avuto un intervento al ginocchio a novembre ed è stata veramente una corsa per cercare di recuperare ed è un miracolo che sia riuscito anche a fare il mio personale la settimana scorsa sui 100. Vediamo, i posti non sono tantissimi quest'anno però sicuramente le premesse ci sono, speriamo. Quale obiettivo per te? Perché poi è anche il coronamento a 27 anni di un percorso che dura da 17 anni, credo. Sì, assolutamente. Questa sarebbe la mia prima Olimpiade. L'obiettivo diciamo che sarebbe almeno entrare in finale. Già entrare tra i primi otto al mondo in un'Olimpiade ci sono riuscito l'anno scorso però ovviamente l'Olimpiade è ancora più importante. Quindi per questa prima già entrare in finale sarebbe tantissimo. Hai voluto respirare l'area di Salerno prima di concederti collegiali, meeting e questo volo per il Sud America? Sì, assolutamente. Qui c'è la mia famiglia e la mia città assolutamente. Mi trovo benissimo, il clima è bellissimo. I miei genitori possono seguirmi, la gente comunque che sempre mi sostiene. Mi trovo davvero benissimo. Il clima sicuramente è più ventilato quindi si sta davvero alla grande. Senti, probabilmente la mia è una domanda retorica che ti hanno fatto mille volte. Lo sport per te che cos'è? Ma lo sport mi ha dato tanto. Aiuta sia nel sociale ma anche nella vita quotidiana. Mi ha dato indipendenza, forza, coraggio e fiducia. E questo è quello che appunto lo sport paralimpico deve fare. Deve cercare di far uscire la gente che abbia qualsiasi difficoltà, perché le disabilità sono tantissime, ad uscire di casa e a mettersi in gioco perché tutti ce la possono fare. Senti, a proposito di competizione, una bella competizione anche con la tua compagna, anche se lei salta, tu corri, quindi non c'è il pericolo di scontrarmi in pista. Esatto, sì, sì, sì. Anche lei ha vinto due medaglie di bronzo agli europei. Anche lei in attesa delle convocazioni, ha fatto anche lei minimi e tutto. Quindi appunto incrociamo entrambi le dita perché sarebbe la prima Olimpiade per entrambi. Viverla insieme sarebbe ovviamente bellissima. Vediamo dai, fra credo una ventina di giorni si saprà tutto. Per concludere, l'Olimpiade è un sogno, ma dopo naturalmente c'è un percorso da portare avanti. Quali sono i futuri obiettivi? Assolutamente. Dopo c'è Tokyo nel Mirino 2020, sicuro, sicurissimo. Vedremo poi, ci sono i mondiali l'anno prossimo a Londra, che sarà bellissimo perché è la prima volta che i mondiali normodotati e paralimpici saranno insieme. Quindi sarà una manifestazione bellissima. Anche perché in Inghilterra è molto sentito lo sport paralimpico, quindi è davvero stupendo gareggiarci. Sicuramente poi Tokyo e vediamo poi se magari ci arriviamo al 2024. Però Tokyo sicuramente è nel Mirino per fare qualcosa di più. Grazie. Grazie.